Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. In apertura vogliamo fare gli auguri davvero con tutto il cuore ad una nostra amica storica, sto parlando di Maria Teresa Fornaro che proprio oggi festeggia il suo compleanno, naturalmente si tratta di una donna quindi insomma non diremo la sua età nemmeno sotto tortura. A Maria Teresa che è stata sempre una ragazza a modo, una ragazza gentile, una ragazza dedita alla famiglia. Vogliamo davvero augurare tutte le fortune del mondo, naturalmente a Maria Teresa, al marito Michele Campopiano, ai figli Mario ed Ines e ai nipoti Luca, Francesca, Elena e Michele. Quindi a queste persone vogliamo fare davvero gli auguri più sinceri da parte mia personalissima e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise. E oggi spegne le candeline anche una nostra collaboratrice, Leonora D'Aversa, che mi affianca tutte le domeniche durante la trasmissione Domenica Sport. Eleonora in questi anni si è dimostrata una ragazza seria ed affidabile, pronta a mettersi in discussione tutte le domeniche e tutte le volte che viene a collaborare con noi in redazione. Tra l'altro anche in un momento difficile come quello di un anno fa durante il lockdown non ci pensò nemmeno un attimo a dare la sua disponibilità per continuare la sua esperienza insieme a noi della redazione sportiva di Telemolise. Quindi ad Eleonora, ai genitori Angela e Michele, alla sorella Emanuela, vanno davvero gli auguri più sinceri da parte di tutti noi della redazione sportiva. Per il calcio regionale, oggi il Consiglio federale della FIGC per stilare la ripresa della stagione del campionato d'eccellenza a partire dal weekend del 25 aprile. Questa mattina alle ore 12 è praticamente scaduto il termine che il Presidente di Cristinzi del Comitato regionale della FIGC in Molise aveva dato a tutte le società per esprimere la loro volontà sulla ripresa o meno del campionato d'eccellenza che è stata fissata, questa ripresa, presumibilmente nel weekend del prossimo 25 aprile. Ebbene, questa mattina hanno dato la loro disponibilità, quindi hanno scritto sì sulla mail che era stata inviata alle società da parte del Comitato regionale, hanno espresso la loro disponibilità, il Sesto Campano, il Termoli, l'Isernia, il Boiano, il Venafro, la San Leucio Volturnia, l'Alto Casertano, l'Ala Fidelis e il Guglionesi. Quindi nove società hanno risposto sì alla ripresa del campionato d'eccellenza. I no sono arrivati da cinque società, esattamente il Campo di Pietra, il Gambatesa, il Castel di Sangro, il Baranello e il Campo Basso 1919. Ci sono due società che hanno in sostanza inviato una mail al Comitato regionale della FIGC in Molise. Si tratta dell'Ururi che in sostanza ha inviato una mail specificando la disponibilità della società alla ripresa del campionato, considerando anche, volendo considerare anche, per dire meglio, volendo considerare anche eventualmente il grafico dei contagi e quindi volendo prendere anche in considerazione la diminuzione eventuale dei contagi che dovrebbe esserci durante le prossime quattro settimane. Bisogna anche considerare che sono anche attivi i punti di vaccinazione. Quindi evidentemente dovrebbe andarsi, usiamo il condizionale perché non è mai troppo il condizionale, vista una situazione che dura praticamente da un anno, però dovrebbe verificarsi anche una diminuzione dei contagiati dovuta intanto ad una situazione naturale di abbassamento dei contagi e poi anche all'aumento delle persone vaccinate. Quindi l'Ururi ha risposto nì in questo momento, così come anche il Pietra Montecorvino che in un primo momento aveva escluso la possibilità di ripresa, mentre in questo momento sembra ancora orientato ad una possibilità, ha lasciato una porta aperta per un'eventuale ripresa della stagione del campionato d'eccellenza. In sostanza questa è la conta, quindi nove società per il sì, quindi a questo punto possiamo dire che certamente riprenderanno le ostilità a partire dal 25 aprile, poi le formule naturalmente saranno studiate meglio, e quindi nove società per il sì, cinque per il no e tra questi cinque no. Dobbiamo dire, questo è un commento assolutamente personale, un commento mio, stupisce davvero il no del campo di Pietra per una serie di motivi. Mentre due sono le società che in questo momento hanno dato una disponibilità, diciamo, con riserva, che sono appunto, come dicevo prima, l'Ururi e il Pietra Montecorvino. Calcio di serie D, sono in campo per il recupero della quattordicesima giornata, Re Canatese ed FC Matese. La gara è in diretta anche sulla pagina Facebook della società leopardiana. Il campo basso si prepara alla trasferta di Piedimonte Matese. Si è aggregato al gruppo anche un nuovo portiere classe 2000. Domenica al Ditella invece sarà derby tra Vasto Girardi e Olimpia Agnonese. Ma bisognerà tener conto, aggiungiamo noi, lo diciamo già oggi che è mercoledì, di un'eventuale nevicata perché nel fine settimana è prevista un po' di neve sul Molise. Quindi lo diciamo perché evidentemente se il Vasto Girardi vorrà giocare, dovrà tener conto necessariamente anche delle condizioni meteorologiche. Cudini prova a fare la conta degli indisponibili per la trasferta a Piedimonte Matese. Forse ancora presto per dirlo, ma qualche sensazione già si può avere, come quella per il centrocampista Tengorang, che dovrebbe aver riportato un problema al ginocchio. In giornata visita per lui, ma non si possono nutrire grosse speranze per domenica. Situazione diversa per Martino, per il quale si è trattato soltanto di una botta nulla di grave. Rimane monitorata dallo staff la situazione di Vitali, non troppo fortunato, in quanto ha avuto una caduta sul ginocchio il giorno prima della gara contro l'Arecanatese. Anche Fabriani non è al massimo della condizione, il difensore ha saltato domenica per squalifica, ma negli allenamenti precedenti aveva rimediato un infortunio. Rimane in dubbio per la trasferta contro FC Matese. Ad ogni modo squadra e staff hanno dimostrato di saper fare di necessità virtù e di saper vincere anche in presenza di queste grosse difficoltà. Due buone notizie. Appreso ad allenarsi con il gruppo, l'attaccante classe 2002 De Biase, tesserato già da qualche settimana e che necessitava di un periodo di riabilitazione prima di poter lavorare con la squadra. Inoltre si sta allenando un portiere, si tratta del classe 2000 Antonio Oliva, proveniente dal Sorrento, giocatore ancora non tesserato. Il DS De Angelis ci aveva anticipato come fosse complicato reperire un 2002. Qualora Oliva venisse ingaggiato, il Campobasso avrebbe due classe 2000 come portieri a disposizione. La squadra continua a vincere, che è quello che più conta per i colori rosso-blu, desiderosi di tornare quanto prima nel professionismo. Inizia un altro periodo molto delicato, le partite che separano dallo scontro di Notaresco nascondono insidie, non solo quella di domenica, ma anche in casa contro la Cinzia al Balonga la settimana successiva. I rosso-blu hanno in dote dei numeri da capogiro. Lo stesso esposito domenica ha servito ad un suo compagno marcatore il tredicesimo assist in 20 partite, numeri che hanno notevolmente migliorato lo scorro rosso-blu da un anno all'altro. La difesa regge l'urto e migliora sensibilmente. Dalmazzi e Menna sono affiatati ed in grado di garantire pronte chiusure. Fase di campionato in cui il contagio da Covid sta riprendendo la scena purtroppo. Rinviata San Nicolò Notaresco-Montegiorgio di domenica per dei casi in eccesso proprio fra gli abruzzesi. Non solo, anche il Fiuggi conta quattro positivi, ragione per la quale Tolentino-Fiuggi pure è destinata al rinvio. Così come è stata già rinviata per gli stessi motivi, Porto-Sante-Elpidio-Rieti già tre gare annullate per il contagio diffuso in alcune società. Il Vasto Girardi si gode una salvezza virtuale con i suoi 34 punti ad uno solo dal quarto posto. Più di un commentatore ritiene che la vera sorpresa in positivo non sia tanto il Castelnuovo-Alvomano quanto lo stesso Vasto Girardi. Prosperi si tiene stretto il 3-3 contro un pericoloso Tolentino temuto dal tecnico anche perché era stato in grado di battere il campo basso. Domenica derby del Molise senza lo squalificato Mele contro una agnonese nemmeno troppo fortunata con i recuperi rinviata la partita contro il Porto-Sante-Elpidio. A volte non bastano i rinvii che si sommano ai rinvii dei recuperi. davvero situazioni molto involute in questo campionato di Serie D che per motivi di forza maggiore si gioca costantemente fra domenica e mercoledì. L'agnonese proverà a fare uno scherzo sgradito al Vasto Girardi in un derby fra due comuni a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro. Il Vasto Girardi è reduce dal pareggio contro il Tolentino. Nel post-cara il commento del tecnico Marchigiano. Andrea Musconi, allenatore del Tolentino. Mister, arriva un buon punto sul campo del Vasto Girardi in trasferta per voi. Tanti miglioramenti, specialmente dopo Giulianova anche se venivate comunque da quattro vittorie consecutive. Sì, sì, era uno step importante. Oggi ragazzi ho chiesto di una prova di orgoglio da uomini perché contro una buona squadra c'era da fare una reazione importante da portare a casa punti perché è un campionato difficile la quota salvezza secondo me è altissima quest'anno e è dura. Penso che sia stata una bella partita, aperta. Penso che anche se non arrivano in dieci magari si poteva anche fare qualcosina in più. Ci siamo avute tante occasioni con una squadra che va fuori casa e crea così tanto. L'obiettivo minore era il pareggio. Poi il calcio è strano, dopo contano gli episodi, la fortuna. Tanto è così. Secondo me il calcio è quello che ti toglie e ti dà. Basta lavorare seriamente, essere uomini e lavorare con i principi nostri. Prima o poi raccoglie. Soltanto ci vuole un pizzico di fortuna e non perdersi per strada sulle difficoltà. Mister, guardando un attimo il film della partita a primi venti minuti ottimi i vostri. Siete passati in vantaggio, poi sono usciti meglio loro, avete sempre inseguito, arriva alla fine, come hai detto tu, un punto meritato. Sì, sì, un punto in dieci che è bello, ma noi potevamo andare anche sul 2-0. Cioè loro, le due azioni che hanno superato metà al campo, ci hanno fatto gol. Gol, siamo semplici di fare fallo sulla punizione e sappiamo che loro ci facevano male dentro il campo, dovevamo essere più combatti in quell'occasione. Però penso che era finito il primo tempo, 2-1 è immeritato per quello che la squadra poteva fare, anche perché ci hanno avuto occasioni importanti. Poi il secondo tempo è stato un altro film, è stata un'altra gara nella gara. È stata una bella sfida da uomini, alla fine anche con le espulsioni. Però è una partita da uomini, dai anche l'aggressività, il combattere, fa parte del calcio, se no non è calcio. Importante con correttezza. Mister, questo è un campionato dove ogni partita ci sarà da battagliare, non ci sono squadre che partono nettamente sfavorite o squadre nettamente favorite? No, no, è un campionato livellato, un campionato bello, livellato, tutti possiamo fare punti con tutti e perdere punti con tutti. Ma io dico anche Agnonese e Porto Sant'Elpidio, sicuramente queste sono squadre che toglieranno punti a qualcuno. porterai nave in porto chi lavora seriamente, chi lavora bene, chi crede, chi non si smarisce per strada, perché è un campionato difficile, bello, e nello stesso tempo anche esaltante affrontarlo. Dispiace per il pubblico, però questo è un campionato particolare anche per il Covid. L'ultima cosa, adesso si torna in casa vostra, arriva il Fuggi, altro scondorietto. Sì, partita complicata, anche il Fuggi è una grossa squadra, ha un potenziale rispetto a noi, non siamo niente, sia a livello di budget, noi non possiamo combattere con queste squadre, noi possiamo combattere soltanto con organizzazione, voglia, aggressività e giocare a calcio. Basket femminile di Serie A1, domenica la Molisana Magnole a Campobasso sarà impegnata in Veneto contro il San Martino di Lupari. Le due squadre sono divise da solo quattro punti in classifica con le Venete in vantaggio. A proposito della squadra, Bonasia avvicinata a margine del successo di domenica scorsa contro il sesto San Giovanni. Bonasia, finalmente è arrivato un successo di prestigio, partita tiratissima, però meritata la vittoria. Sì, finalmente perché siamo quasi al completo, nel senso che Sam ancora non è del tutto rientrata, però comunque ci dà una grande mano e quindi sono contenta perché ci voleva per un po' di animo, un po' di... Sì, ci voleva per il nostro umore generale. Primo quarto, il canestro sembrava davvero stregato, in altre circostanze vi lasciavate andare. Vedo che c'è stato anche un cambio di mentalità. Sì, guarda, secondo me la prima parte è stata un po' più difficile perché questa settimana abbiamo lavorato intensamente e probabilmente avevamo un po' le gambe bloccate. Poi dopo il primo quarto ci siamo un po' sbloccate, siamo entrati nella partita e tutto è riuscito molto più facilmente. Però, ripeto, nel primo quarto non è che abbiamo esagerato, abbiamo preso dei tiri sbagliati, solamente eravamo un po' scariche di gambe. Per fortuna poi, ecco, siamo riusciti a non farci dare una grande distanza di punti, a tenerci attaccate alla partita per poi appunto vincere alla fine. Ti ho notato nelle ultime partite casalinghe delle difese tue incredibili, sia contro Schio che oggi. Ho visto veramente, tra l'altro sei stata in campo in pratica quasi 40 minuti, non è neanche semplice mantenere lucidità sia da una parte che dall'altra parte del campo. Sì, sì, come stavo dicendo prima, in questa settimana abbiamo lavorato tantissimo e soprattutto in difesa. Secondo me è questo quello che ci fa crescere perché si vede palesemente che da quando abbiamo aumentato questo tipo di allenamento in campo ovviamente l'intensità è maggiore, ci aiutiamo molto di più e appunto difendiamo cose che forse nella prima parte del campionato facevamo un po' più di difficoltà. Invece adesso la nostra forza è questa, è quello che sappiamo fare. La nostra squadra penso che sia costruita per difendere e poi correre. Ultima cosa, la domanda che ho fatto anche al tuo coach Emilia Bove, vivere alla giornata o pensare a qualcosa in più? Allora, per adesso penso che sia importante pensare a partita dopo partita perché ancora non siamo matematicamente salve, quindi penso che il primo obiettivo sia quello nel momento in cui siamo sicuri di essere salvi sicuramente io penserei a playoff senza ombra di dubbio. Pallavolo ripresi gli allenamenti per le formazioni molisane, la nuova pallavolo Campobasso sabato potrà contare ancora sul fattore campo alla palestra di Villa De Capo, arriverà il Cepagatti. Per il calcio a 5 di serie A2, pronto riscatto del Cus Molise che con un'ottima prestazione ha ospitato e battuto la Bulldog Lucrezia. Ne abbiamo parlato con Zancanaro. Zancanaro, complimenti per la vittoria ma soprattutto per la prestazione perché davvero a mio modo di vedere sei stato il migliore in campo. È stata una partita importante, ci voleva questa vittoria. Anzitutto grazie per i complimenti, ma i complimenti viene fatti alla squadra. Se io ho fatto una partita importante è grazie anche ai miei compagni. Lavoriamo tutta la settimana per dare il meglio di noi al sabato. Veniamo da un periodo un po' difficile, un po' complicato, come ho detto prima in un'altra intervista. Anche se io sono qua da poco tempo si sente che c'è un'area un po' pesante perché le vittorie non ci arrivavano anche con buone prestazioni, però la vittoria non arrivava. E oggi abbiamo messo da parte questo discorso della vittoria, la vittoria è arrivata. Credo che anche sofferto all'inizio del primo tempo, contratto, sofferto, però al secondo tempo la squadra è venuta fuori e abbiamo fatto un risultato che per noi era importantissimo. Ecco, io ti faccio i complimenti perché la tua carta d'identità dice che sei dell'80, ma secondo me sei più giovane di tanti ragazzini che scendono in campo. Qual è il tuo segreto? Ma non c'è un segreto, io mi alleno, chi mi conosce sa che mi alleno ogni giorno come se fosse la partita e quindi forse questa cosa mi sta dando un po' di gioventù. Ecco, come mai hai scelto, insomma, il CLN Cusmo Lise, c'erano tante richieste per te in questo mercato, però poi hai scelto di venire a Campobasso. Ma sai, ho avuto tante richieste e ringrazio le società che mi hanno cercato come ho già fatto in precedenza. Ho scelto questa squadra per le ambizioni e quando ho parlato col mister, col presidente, con i dirigenti mi hanno accolto già dal primo momento delle prime chiacchierate che abbiamo fatto mi hanno fatto sentire tranquillo. Non che le altre squadre non mi hanno fatto sentire, però mi sembrava che questa squadra aveva bisogno di un giocatore come me e quindi me la sono sentita dal primo momento e quindi sono contento di essere qua. E noi siamo contenti insomma che sei arrivato a Campobasso. Ecco, un'ultima cosa, diciamo, siete in piena zona playoff, c'è una final eight da giocare, mancano solamente tre partite, due le giocherete qui allo Sturzo. Insomma, ci sono possibilità per divertirsi, no? In questo finale di stagione, magari anche recuperando qualche infortunato perché ne avete tanti. Sì, infatti, è il discorso delle nostre difficoltà in questo momento, vengono anche dei tanti infortuni e delle squalifiche e quindi non possiamo fare allenamento a pieno carico perché ci mancano gli elementi, però stiamo recuperando e alcuni stanno rientrando e quindi questo ci fa ben sperare per il proseguo. Queste tre partite che ci sono sono partite importanti, noi, come ho detto prima, cerchiamo di fare il meglio ogni sabato per arrivare più in alto possibile, poi i conti si fanno alla fine. Per la finalità mi allaccia questa cosa, sono venuto anche qua perché è da un po' di tempo che mi manca di giocare queste competizioni importanti e quindi questa pure è stata una cosa che mi ha fatto venire qua. Calcio a 5 ma di serie B. Ieri la Chaminade Campobasso ha recuperato la gara in casa del San Michele. La gara è terminata con il successo dei Molisani per 5 a 3. La Chaminade 2.0 trova il primo successo 3 a 5 in casa del San Michele e Baby Rosso Blu danno continuità al paregio esterno contro il Torre Maggiore. Nel primo tempo Cannone per Perez che gli restituisce palle ed è 1 a 0 per i locali. Fiera Mosca recupera palla a centro campo cerca un corridoio per Denisco Valentini in cercetta e realizza la più classica delle autoreti. Dinunzio per Di Camillo ben appostato sul secondo palo Denisco che porta in vantaggio i Molisani. Prima dell'intervallo Fiera Mosca per Denisco che in scivolata riesce a servire l'accorrente Antonio Dinunzio per il 3 a 1 della Chami. Nel secondo tempo il capitano del Rosso Blu ricambia il favore alla sua boa. Lungo rilancio per Denisco che sfruttando un'indecisione difensiva tra Balena e Diaz fa 4 a 1 il suo amichele accorcia con Perez che intercetta palla serve Cannone che realizza il 4 a 2 gara in salita quando l'arbitro insegna un penalty ai locali per questo fallo di Davide Ninunzio Cannone dal dischetto fa il meno 1 a 4 minuti dalla sirena Federico Di Camillo per Denisco che con una girata al volo sigla la sua tripletta di giornate del definitivo 3 a 5 Sabato la Chaminade tornerà in campo per ospitare alla palestra Sturzo il Canosa Basket maschile di C Silver questa sera con palla a 2 alle 19.30 il Venafro ospiterà il Sant'Antimo per la terza giornata della prima fase i molisani domenica hanno fatto il loro debutto esterno contro il parete della provincia di Caserta i ragazzi di Mascio hanno conquistato il referto Vincento 72 a 63 bene era l'ultima informazione per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio il nostro TG Sport è un'ultima informazione del nostro TG Sport